E cominciamo subito dalla riete. Più che un sabato sembra un lunedì. Progetti che prendono forma, nuovi lavori e impegni confermati, dinamismo e tanta voglia di fare. Quasi vi dispiacerà stare a casa questo weekend. Toro, giornata serena, tutto fila al lavoro con la testa che è già la domenica dove potrete riposarvi sul vostro benamato divano. Serata con gli amici o magari passeggiando per la vostra città anche da soli ma in assoluta pace. Gemelli, il lavoro, la famiglia, gli impegni personali, problemi in casa, forse avrete a che fare con elettricisti, idraulici, tecnici vari. E poi ancora serata tra amici che potrebbe risolvere il vostro lato emotivo. Cancro, il vostro rapporto di coppia vive un momento di grande serenità, pace, comprensione e completezza. Forse siete insieme da anni, forse da poco, ma sentite di conoscervi da sempre. Leone, forse oggi arriverà l'opportunità tanto attesa, forse oggi il vostro capo vi affiderà quel lavoro o progetto che tanto speravate e per cui tanto avete già lavorato. Forse questo richiederà di sacrificare parti di questo weekend. Vergine, oggi avrete quella insana voglia di partire, voglia di prendere e andare. Forse potrete prendere una settimana di ferie e fare il viaggio che sognavate da un po'. Bilancia, sentirete casualmente qualcuno parlare di voi, qualcuno che immaginavate neanche si accorgesse del vostro lavoro e invece non vi ha mai perso di vista. Soddisfatti chiuderete la vostra giornata in bellezza. Scorpione, l'amore se c'è scalda il cuore, ma non sono fiamme, è un caldo e sicuro focolare in cui rintanarsi. Il cuore però vi porta altrove, spesso vi ritrovate a pensare ad una storia lontana. Sagittario, il malumore e le incertezze di ieri forse oggi sono appena più luminose, perché realizzerete di aver messo da parte più del previsto e questo vi consentirà anche di godervi questo weekend nel modo più rilassato possibile. Capricorno, oggi c'è di mezzo la passione, oggi ne avete per tutti, siete travolgenti, saranno gli ormoni che si fanno sentire lontano un miglio, ma oggi siete vogliosi e desiderabili al tempo stesso. Acquario, accade che incontri qualcuno che semplicemente ti fulmina, che fa apparire tutto più bello possibile, raggiungibile, qualcuno che sentite di conoscere da sempre. Pesci, avevate un sogno, un progetto, un buon proposito che oggi è andato definitivamente a rotoli. Nulla di quanto avete sognato per questo weekend si potrà realizzare, ma nessun problema, gli amici servono anche a questo. Organizzerete qualcosa di divertente stasera e forse anche domani. Grazie. Grazie. Grazie.